Ciao sono Fani e oggi parleremo dell'ennesima modifica che ho fatto alla mia troncatrice. In particolar modo questo video è rivolto al fatto che io ho creato una zero clearance nuova, al posto di quella che c'era su prima, che potete vedere. Ho rifatto la battuta, ho sistemato anche il discorso della T-Track e cosa più importante, ho rifatto questa copertura delle polveri che come qualcuno mi ha fatto notare, quella vecchia che c'era prima non era proprio bellissima. Quindi adesso io vi invito a seguire tutto il video fino alla fine così vi mostro come ho realizzato il tutto, come riesco ancora a sfruttare la troncatrice di tutte le sue funzioni e già che ci sono, vi dico anche due parole su di lei. Allora quello che andremo a fare in questa troncatrice sarà cambiare questo pezzo da zero clearance perché qui questo spazio qua influisce sul taglio, quindi scheggia molto. Poi andrò a rifare anche questa battuta qua, quindi ferrò un prolungamento di questa, arriverò fino a qui. Ho fatto due listelli per raggiungere lo spessore che mi serviva a me. Tra l'altro cosa ho fatto anche, uno l'ho fatto lungo tanto quanto la guida, in questo modo andrò a rifare i fori qua per le viti, mentre quello che andrà sopra l'ho fatto leggermente più corto, in modo non dover star lì a svasare i fori perché comunque alla fine ho fatto una prova, qui c'è la prima che ho fatto e possiamo vedere come sia abbastanza venuto uno schifo. Per risolvere questo problema qua ho rifatto, quindi adesso andrò a segnare i fori per questa e poi andrò ad incollarli insieme, vediamo. Ciao! 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 Allora questa è pronta, la guida l'ho puntata, adesso faccio il primo taglio di prova per incidere la zero clearance e poi vado a regolare la guida in modo che sia perfettamente in squadro. Come faccio a capire se in squadra o no? Appoggio una squadretta alla lana e vado contro la guida. Possiamo vedere che qui siamo contro mentre qui c'è un pochino di luce, devo dire che la guida va in dentro, quindi io adesso devo tirarla un pochino così. Adesso vado a tagliare la guida, la farò in due pezzi. La parte di qua la farò alta come questa, in modo che la guida arrivi il più vicino possibile alla lama. Mentre questo lo farò un po' più alto e vedrò come fare per il resto. Quindi adesso inizio a tagliare questo pezzo qua. Ciao! 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 ciao Grazie a tutti. 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 Io non riuscivo a farlo in un pezzo solo, posso tagliare comunque a 45 gradi da questa parte, senza problemi. In questo modo io ho ridotto ancora di più le polvere, adesso vedrò se mettergli qualcosa qui, mettergli magari un celofan perché, però esteticamente non mi fa impazzire vedere qualcosa qua dietro. Puoi fare quello che lo uso io, la troncatrice, ma che uso maggiormente il banco sega. Però vedo se riesco a trovare qualcosa di un celofan, ma che sia bello da vedersi, tra virgolette, non lo so. Devo capire cosa fare, perché alla fine si tratta di capire. Come che sia possiamo vedere che adesso lo spazio per la polvere è molto limitato qua dietro, quindi un aspirapolvere dovrebbe riuscire a trattenere la maggior parte della polvere. La t-track io adesso l'ho spostata più in qua, quindi cosa significa? Che io riesco a arrivare molto più vicino alla lama rispetto a prima. Quindi questo qua ci sta perché io così riesco a tagliare anche pezzi piccoli con lo stop. Adesso ho ordinato la t-track più lunga, perché questa è da 600, ne ho comprata una da 800, quindi adesso è inutile che gli metto lo scotch. Quindi gli metto il metro adesivo, perché comunque questa andrà cambiata e dopo dovrei tirarlo via di nuovo, quindi aspetto che mi arrivi la nuova t-track e installerò quella con il metro. Allora, volevo parlarvi giusto due minuti di questa troncatrice, è una ferme MSM 1038, non credo che questo modello sia ancora in produzione, mi sa che è uscito un modello nuovo, nel caso vi lascio il link al modello nuovo in descrizione, però più o meno si assomigliano tutte, quindi è una macchina stazionaria, quindi va fissata al bancone di lavoro. In dotazione ha sempre due bracci estensibili, due gambe per aumentare il piano di lavoro. La maniglia è molto comoda per il trasporto, anche se dicono che è stazionaria, ma è studiata anche per essere portata in giro, quindi se dovete usarla in cantiere così sapete che tramite delle molle così rimane chiusa e si può trasportare. Ha una potenza di 1900 Watt, quindi molto potente, gira a 4800 giri al minuto, con una lama in dotazione da 255 mm. Questa qui in dotazione originale, adesso non mi ricordo quanti denti ha, dovrebbe essere un 60 denti. È dotata di una guida laser, quindi una guida laser che tramite un pulsante si accende, che indica esattamente la linea di taglio. Devo dire una cosa sul laser, che praticamente mi sono reso conto, usandola, che il laser ha un fascio di 2-3 mm, cioè quanto la lama. Quindi noi quando andiamo a segnare un pezzo da tagliare, per esempio, e io prendo questo e voglio tagliarlo qua, faccio un segno, faccio un segno con la matita. Il laser dopo mi andrà a fare un fascio così, molto più largo, cioè di 2-3 mm. Quindi noi quando andiamo a tagliare e a regolare il laser, dobbiamo sempre tener conto da che parte del laser stare, perché sennò rischiamo di sbagliare di 1-2 mm il taglio. Nonostante, se ci mettiamo sul laser proprio in pieno, è probabile che perdiamo 1 mm, 1,5 mm sul taglio. Io per evitare questo problema mi sono creato una battuta, così almeno io qua so che c'è la linea di taglio, mi metto di qua o di là. Una cosa in più che ho fatto è stata mettere questa. Quindi io imposto, chiudo e taglio a misura. Adesso questa qua, come ho detto, mi deve arrivare quella nuova. Se invece guardate un video di quando l'ho realizzata all'inizio, io ho messo un metro adesivo e tagliava perfetta al millimetro. Adesso io andrò a installare un multitrack da 800 mm. Dopo, grazie a questa guida, riuscirò a regolarla precisamente in modo che il laser proprio a me non serve più. Questa permette di fare tagli da meno 45 a più 45. Io anche con questa copertura che ho realizzato riesco comunque a effettuare tagli a 45. Si può inclinare anche verticalmente di 45 gradi, da un lato solo verso sinistra. Si inclina per fare un taglio a 45 gradi. Allora, vediamo un attimo come si sostituisce la lama e poi parliamo anche un po' di sicurezza. Allora, per sostituire la lama innanzitutto bisogna assolutamente staccare la corrente. Quindi staccate la spina e poi operate sulla lama perché è un attimo farsi male. Quindi io ho staccato la corrente, per sicurezza provo e vedo che non funziona. Quindi adesso posso andare a cambiare la lama. Cosa ci serve? Chiave a brugola del 5 e chiave a brugola del 6. Lo svitiamo prima questa. A questo punto, con la brugola del 6, apriamo questa vite qua. Possiamo tirare indietro la protezione. In questo modo. Azioniamo il grilletto e facciamo ruotare un po' la lama finché non siamo sicuri che sia bloccata. A questo punto, con la lama bloccata, sempre con la brugola del 6, andiamo ad agire su questa vite. La vite della lama ha il filetto al contrario. Questo filetto al contrario è fatto apposta appunto per evitare che la lama accidentalmente si smoldi da sola. Togliamo la flangia. Stiamo a rimuovere la lama. Ok, è rimasta attaccata la flangia. Ne abbiamo in mano la nostra lama. Per rimontarla, il discorso è inverso, quindi infiro la lama, le frecce indicano il senso giusto di rotazione, quindi i denti vanno verso il basso e non verso l'operatore. Basta seguire le frecce, metto la flangia, a questo punto posso rimontare la copertura. Questa copertura qua è importantissimo non toglierla mai perché può capitare che noi facciamo partire la macchina in questo stato, magari accidentalmente abbiamo quel pezzo in mano. Tocchiamo dentro, oppure al contrario, cosa ancora più probabile. Quando abbiamo finito di tagliare, alziamo, pensiamo ad avere che la lama sia ferma, facciamo questo movimento, oppure così. E vabbè, e ci siamo capiti. Quindi questa assolutamente non toglierla mai. Oltretutto per far partire la macchina abbiamo un doppio sistema, quindi bisogna non solo schiacciare questo, il grilletto, per farla partire, ma bisogna anche sbloccare per farla scendere. Perché questo impedisce che la macchina scenda, quindi dobbiamo sbloccare e possiamo accendere. La consiglio? Beh, per questa fascia di prezzo sì, perché comunque fa il suo lavoro, è una buona macchina, è una buona potenza, quindi io sì, sinceramente la ricomprerei. Sì, adesso parliamo un attimo di questo che ho realizzato. Allora, io nel video precedente l'avevo fatto col seghetto alternativo, adesso avendo la sega nastro riesco, sono riuscito a fare una cosa un po' più precisa. Io ancora adesso qua, devo cancellare gli segni di matita, quindi scusate. Comunque sia, sono riuscito a realizzare questo pannello, in modo da ridurre le polveri, perché la troncatrice è la macchina che in assoluto fa più polvere, intendo polvere sottili, che sono quelle più pericolose, quindi non dobbiamo assolutamente respirarle. In questo modo io ho cercato di mandare la polvere il più possibile dietro, e essere aspirata dal mio impianto di aspirazione. Se non avete visto il video, vi faccio vedere qua dietro, come se a vedere qui dietro, su quel tracolo della macchina, ho messo anche un impianto di aspirazione là dietro. Nonostante questo, si riempie di polvere, però a me finché la polvere rimane qui dietro non mi interessa, il problema è quando viene davanti, quindi devo dire che adesso funziona molto bene. C'è una playlist dedicata alla troncatrice, dove troverai tutta la spiegazione di come ho realizzato il mio impianto. Se dovesse andare a rifarla, quindi se qualcuno vorrebbe farla come l'ho fatta io, vi consiglio di farla, la copertura farla più in qua. Quindi io adesso ho creato questo scatolotto qui, ma per ridurre al massimo le polveri, l'avrei fatta appunto quei 3-4 cm più vicina possibile alla linea di taglio. Così funziona bene, ma secondo me sarebbe stata ancora meglio con la copertura più vicina. Bene, il video termina qui, fammi sapere cosa ne pensi di questo, se il video ti è piaciuto scrivilo nei commenti, metti un bel mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Io ti invito anche ad andare a vedere la playlist della troncatrice, in modo da poter vedere tutti i vari progressi che ho fatto su questa macchina e di come sono arrivato a questo punto. Inoltre ti invito a seguirmi su Instagram, dove pubblico vari post, foto, lavori, ho anche un sito internet che puoi andare a visitare, quindi ti lascio qua sotto tutto in descrizione. In descrizione trovi anche il link per la troncatrice o comunque per il modello nuovo di troncatrice. Bene, io vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di spuntare la campanella così potete essere avvisati quando uscirà. Quando uscirà e ci vediamo alla prossima!